Ciao ragazzi, in questo tutorial analizziamo alcune opzioni di ordinamento disponibili in Excel ed impariamo ad utilizzare il filtro automatico. Iniziamo! Abbiamo a disposizione un database relativo alle vendite aziendali del 2018. Se volete un consiglio, vi suggerisco di separare sempre il database dal resto dei dati presenti nel foglio di lavoro in questo modo. Fate in modo che ci siano sempre una riga vuota sopra il database, una colonna vuota alla sua destra ed una riga vuota sotto il database. Praticamente, per le elaborazioni che andremo a effettuare, è opportuno che il database sia separato sia dalla riga del totale che dalla riga, oppure dalle righe, del titolo. È inoltre opportuno inserire i nomi delle intestazioni di colonna, poiché questa operazione renderà molto più semplici e intuitive le operazioni di ordinamento e di filtraggio dei dati. Iniziamo ora a vedere come si ordinano i dati presenti in un database. Per far questo, si può scegliere il tab Home e da questo il pulsante Ordina e filtra. Come si può notare, abbiamo a disposizione varie opzioni di ordinamento e filtraggio dei dati. Io però, per effettuare queste operazioni, preferisco selezionare il tab Dati, in cui è presente un gruppo Ordina e filtra, in cui sono presenti dei pulsanti che ci permettono di effettuare le stesse operazioni in maniera più rapida. Selezioniamo ora una qualsiasi cella del database, ad esempio all'interno della colonna Data. Per ordinare i dati dal meno recente al più recente, è sufficiente cliccare sul pulsante AZ. Viceversa, per ordinare i dati dal più recente al meno recente, dovremo cliccare sul pulsante ZA. Annulliamo ora le operazioni effettuate e proviamo a cliccare all'interno di una cella della colonna Cliente. Utilizzando gli stessi comandi, possiamo ordinare i clienti in ordine alfabetico, sia crescente che decrescente. Annulliamo di nuovo le operazioni effettuate e posizioniamoci all'interno di una colonna contenente dati numerici. Utilizzando gli stessi pulsanti, possiamo ordinare i dati in ordine crescente, cioè dal più piccolo al più grande, oppure decrescente. Come abbiamo potuto notare, Excel riordina tutti i dati presenti nel database, e non solo quelli presenti nella colonna selezionata, poiché tale operazione evidentemente non avrebbe senso. Annulliamo di nuovo le modifiche e prima di procedere con opzioni di ordinamento più avanzate, voglio rimarcare il fatto che Excel riordina il database in base alla cella selezionata, cioè, scegliendo una cella nella colonna provincia, il database verrà riordinato per provincia. Scegliendo una cella nella colonna settore, il database verrà ordinato in base alla colonna settore. È importante sottolineare il fatto che la cella selezionata deve essere solamente una. In caso contrario, Excel visualizzerà un messaggio in cui ci chiede se vogliamo espandere la selezione oppure continuare con la selezione corrente. Quando è possibile, io vi consiglio di evitare questo problema selezionando una sola cella. Vediamo ora come si può ordinare un elenco a più livelli. Sarai interessato avere le date in ordine crescente e, quando ci sono due vendite relativi alla stessa data, vorrei avere i clienti in ordine alfabetico crescente. Per un ordinamento di questo tipo, cioè a due o più livelli, si procede in questo modo. Si clicca sul pulsante Ordina e, siccome sono state inserite le intestazioni di colonna, Excel ci visualizza tali intestazioni. Dobbiamo ordinare le date in base ai valori di cella dal meno recente al più recente e qui sono presenti altre opzioni e, per ordinare in base ai clienti, bisogna aggiungere un livello, selezionare dal menu a discesa la colonna Cliente e ordinarla in base ai valori di cella dalla A alla Z e qui sono presenti anche altre opzioni. Dandolo OK, possiamo notare che, a parità di data, i clienti sono ordinati in ordine alfabetico crescente. Questa opzione di ordinamento ci permette di creare più livelli, di eliminare i livelli selezionati, di copiare i livelli per poi modificarli oppure di riordinare i livelli tramite questi due pulsanti. È poi possibile specificare se i dati hanno le intestazioni, come nel nostro caso, oppure no, togliendo la spunta. Annulliamo ora tutte le operazioni effettuate e vediamo un'altra opzione di ordinamento disponibile nel pulsante Ordina. Cliccando su Ordina è possibile ordinare una qualsiasi colonna anche in base al colore. Ad esempio, selezionando Colore Cella e qui a destra il colore scelto possiamo portare all'inizio del database tutte le celle di colore arancio. Se poi non siamo soddisfatti, possiamo selezionare il livello, copiarlo e scegliere un altro colore e di nuovo copiare il livello e modificarlo scegliendo il terzo colore. In questo modo, le celle del database verranno riordinate in base al colore a seconda delle nostre scelte. Addirittura potremmo riordinare i colori cliccando sul pulsante Sposta su oppure Sposta giù. Annulliamo di nuovo tutte le operazioni effettuate e vediamo come si applica il filtro automatico. Come per gli ordinamenti, non bisogna selezionare nulla ma semplicemente cliccare in una cella del database e poi cliccare sul pulsante Filtro. A questo punto, come si può vedere, sulle intestazioni di ogni colonna compaiono dei menu a tendina. Selezionando questi menu, a seconda della tipologia dei dati inseriti, possiamo avere a disposizione varie opzioni di ordinamento. Analizziamole nel dettaglio. Se il campo è di tipo Data, possiamo di nuovo riordinare i dati, come già visto in precedenza, oppure ordinare i dati per colore, opzioni che abbiamo già visto nella parte iniziale di questo video. Inoltre, abbiamo a disposizione molti modi di filtrare il nostro elenco. Possiamo ad esempio filtrare per colore, cioè selezionare un colore, e quindi visualizzare solamente le celle del colore scelto. Quando viene applicato un filtro, il pulsantino del filtro assume una nuova forma, ad imbuto. E come si può notare dai numeri di riga qui a sinistra, che ora sono di colore blu, è evidente che le righe filtrate sono state nascoste e non eliminate, poiché, come si può notare, i numeri presenti non sono consecutivi, e dunque le righe di colore non rosa sono ancora presenti, ma non visibili. Per rimuovere un filtro, si può operare in vari modi. O si clicca sul pulsante Cancella, oppure si clicca di nuovo sul pulsante del filtro, oppure si può eliminare il filtro da questo pulsantino. Selezionando poi Cancella filtro per data. L'opzione che preferisco è senz'altro quella di cliccare di nuovo sul pulsante del filtro. In tal modo, il filtro può essere messo, oppure tolto, e qui nelle intestazioni scompariranno i pulsantini. Per applicare un filtro in modo veloce, si può anche utilizzare la combinazione di tasti di scelta rapida, CTRL maiuscolo, più L, come indicato qui nello screen tip. Analizziamo ora più nel dettaglio le opzioni di filtraggio per data. Come si può notare, Excel individua i mesi, e, se fossero presenti date appartenenti a più anni, individuerebbe anche gli anni. Possiamo ora deselezionare tutto e scegliere, ad esempio, le vendite di gennaio e di febbraio. Cliccando su OK, l'elenco viene filtrato e ci rimangono solo le date relative ai due mesi selezionati. Togliamo il filtro ed analizziamo altre opzioni. Selezioniamo di nuovo tutto ed analizziamo i filtri per data. Come si può notare, sulle date abbiamo un'enorme quantità di opzioni di filtraggio, che lascio a voi il compito di provare. In aggiunta, abbiamo anche la possibilità di filtrare i dati in base al trimestre o in base al mese, oppure utilizzare un filtro personalizzato con molte più opzioni, che analizzeremo però nel corso di Excel avanzato. Per quanto riguarda invece i campi testo, cioè ad esempio i nominativi dei clienti, abbiamo la possibilità di nuovo di ordinare in ordine alfabetico crescente, decrescente, di ordinare le celle per colore, oppure di filtrarle per colore, oppure di selezionare solamente alcuni clienti che ci interessano. Un'altra opzione, a volte molto vantaggiosa, è quella di filtrare le celle in base al loro contenuto. Infatti, cliccando su Filtri per testo, è possibile selezionare le celle che contengono particolari lettere. Ad esempio, se volessimo selezionare dall'elenco tutte le SRL, potremmo scrivere direttamente SRL in questo campo e premere su OK. Come si può notare, sono state selezionate nel database tutte le righe contenenti le SRL. eliminiamo anche questo filtro mediante il pulsante Cancella, che, a differenza del pulsante Filtro, ci permette di mantenere queste tendine attive. E per concludere, analizziamo anche i filtri numerici. Quando abbiamo delle colonne contenenti dei numeri, possiamo di nuovo ordinare i numeri dal più grande al più piccolo, oppure dal più piccolo al più grande, per colore, possiamo filtrare per colore, oppure utilizzare dei filtri per numeri, che vi consiglio, per fare un po' di pratica, di provare personalmente. È poi possibile, come già visto anche per gli altri filtri, selezionare uno o più numeri applicando la spunta. Per annullare questa operazione, è sufficiente selezionare tutto, oppure, come già visto in precedenza, utilizzare il pulsante Cancella, che lascia attivi i pulsanti del filtro, oppure il pulsante Filtro, che elimina completamente sia il filtro che i pulsanti. Come abbiamo potuto notare, esiste un'enorme quantità di opzioni di ordinamento e di filtraggio, e per provarle tutte, occorrerebbe molto tempo. Quindi, vi consiglio, di cercare un database, magari su internet, e di sperimentare le innumerevoli possibilità che Excel ci offre. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro, e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video, vedremo come si inserisce una tabella in Excel, ed analizzeremo gli enormi vantaggi che le tabelle offrono rispetto agli intervalli di celle. Vi aspetto. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.